Allora, intanto vi ricordo che per prenotarvi, perché comunque l'ostensione è aperta fino al 23 di maggio, dunque c'è il tempo, c'è una piattaforma online per le visite alla Santa Sindone, lo potete fare sul sito www.piemontitalia.eu abbiamo detto che le prenotazioni sono oltre il milione e mezzo di unità e poi ricordiamo che le informazioni sulla Sindone le trovate anche sul sito www.piemontitalia.eu il portale è ricco di storia, di informazioni riguardo alla storia, tutte le riflessioni che sono state fatte attorno a questa relicchia, quindi sarà sicuramente un modo importante e interessante per soddisfare la vostra curiosità e il vostro interesse. Allora, dicevamo prima di questa mostra, è una delle tante iniziative che va a corollario della Sacra dell'Ostensione, della Santa Sindone, questa mostra allestita al Museo Nazionale del Cinema, la rassegna si chiama Eceomo e racconta cosa, Barbera? Beh, racconta i tanti modi in cui il cinema ha raccontato la storia di Gesù, è sicuramente una delle storie che il cinema ha raccontato più volte, credo che siano oltre 150 i film che dall'origine ad oggi hanno messo in scena la vita e la passione di Cristo, nessun altro soggetto ha mai raggiunto una tale cifra. Se poi pensiamo che i primissimi film dedicati a Gesù addirittura coincidono con l'invenzione stessa del cinema, è davvero un fenomeno sorprendente. In mostra sono in qualche modo documentati 70 film compresi fra il 1906 e il 2006, una parte di tanti film dedicati a Cristo ed è una mostra essenzialmente di immagini, cioè manifesti, locandine, materiale pubblicitario, foto di scena e fotogrammi di film. L'idea di far percepire al pubblico attraverso questo percorso allestito all'interno del museo come sono cambiati i modi di rappresentazione ed è una percezione abbastanza evidente e semplice. Si capisce per esempio che il cinema muto si ispirava soprattutto alla pittura religiosa ottocentesca italiana, ci sono dei riferimenti precisi, delle citazioni evidenti di quadri famosi e conosciuti che ritornano nella messa in scena dei pionieri del cinema muto. E poi invece si si rende conto che man mano che i tempi evolvono, la cultura del momento influisce ovviamente sull'iconografia e sui modi di rappresentare la storia di Gesù. Pensiamo per esempio a un film che ha avuto un successo straordinario come Jesus Christ Superstar, il musical hollywoodiano. Beh è chiaro che lì c'è tutta la controcultura americana che inizia negli anni 60 negli Stati Uniti che influenza in maniera decisiva il modo di raccontare la storia di Gesù, così come successivamente ancora ci sono altre influenze culturali eccetera. Beh fino al molto controverso quello di Gibson, la passione, è molto violento questo film insomma. È un film molto violento che in qualche modo risente invece della tendenza del cinema contemporaneo a esasperare la dimensione realistica e accentuare gli effetti più macroscopici, addirittura con delle tendenze horror, con delle venature da cinema horror e splatter che sono quelle che piacciono oggi ai ragazzi che frequentano il cinema. Secondo lei qual è il film più vicino a quella, magari alla corricostruzione storica? Beh ci sono tanti, quasi tutti i film si ispirano naturalmente ai Vangeli, in parte ai Vangeli ufficiali e in parte ai Vangeli apocrifi. Il film forse più fedele non tanto nella diciamo così nella cronologia storica quanto nella capacità di rappresentare la dimensione insieme umana e religiosa del Cristo è forse il Vangelo secondo Matteo di Pasolini. Anche il signor Diverti annuisce. Sì perché so che ha avuto una consulenza da parte della Procevitata Cristiana, Don Giovanni Rossi ed altri che hanno di volta in volta un po' orientato anche la vena interpretativa. E poi mi sembra che Pasolini l'ha presa talmente sul serio questa sua vicenda che veramente è commovente ecco a leggere. Ed è anche molto interessante vedere come mentre procede nel campo degli studi, soprattutto gli studi neotestamentaristi del Nuovo Testamento, la discussione sulla storicità di Gesù, lì ci sia invece una interpretazione di questo genere che da una parte sembra super realista e dall'altra parte invece ubbidisce già a certe sensibilità che all'inizio evidentemente non ci sono. Questo è un discorso affascinante e comunque invitiamo i nostri telespettatori a visitare questa mostra, prima o dopo il signor Diverti aver visto la Sindone? Nel senso come ci si prepara alla riflessione? È una bella domanda perché non ci ho mai pensato. Forse, forse dopo, ma ci sono motivi per... Ah, così, a pensarci soltanto adesso, motivi prima, motivi dopo. Comunque certamente in unione i due temi, e i due elementi, credo che siano l'uno arricchente per l'altro. E dove si guarda? Cosa si guarda? Forse c'è una dimensione oggettiva, cioè dove volgere lo sguardo sulla Sindone e poi come volgerlo dentro se stessi, no? Questo... Sto sempre domandando a me. Sì, sempre domandando a lei. Le domande difficili facciamo, signor Diverti. E appunto, perché le domande facili non vengono mai. No, ma voglio dire, per i nostri telespettatori che magari hanno piacere di essere accompagnati un pochino... Continuando sulle cose che facciamo prima, cioè la rappresentazione visiva, è impressionante vedere come coloro che cercano di riprodurre il volto del Signore partendo o ispirandosi, di solito insistono sugli occhi. A me sembra che la Sindone abbia nei confronti di questi tentativi qualche cosa veramente da dire. Gli occhi della Sindone sono chiusi ed è da questo occhio chiuso che tu ti senti interpellato probabilmente molto di più che da un occhio aperto. Voglio dire, essendo veramente all'immagine del silenzio, quello della Sindone, si deve seguire questo suggerimento perché è un silenzio di morte che si apre verso la vita, che proprio perché è chiuso all'esterno ti aiuta a entrare un po' più in te stesso. Io non so più cosa dire dopo queste parole di Monsignor Ghiberti che sono così piene di significato. Le immagini lo sono altrettanto, spero che abbiano aiutato i nostri telespettatori che hanno intenzione di andare a visitare la Sindone e che si sono prenotati a guardare meglio, a capire meglio anche con se stessi che cosa vedere. Chi non si è prenotato ancora lo può fare, lo ricordiamo, sul portale piemonteitalia.eu. È molto semplice prenotarsi online, non abbiate paura di avvicinarvi anche a questo strumento e quindi è un modo anche questo per avvicinarsi alla riflessione. Grazie quindi ai nostri telespettatori per averci seguito, grazie agli ospiti che ci hanno accompagnato in questo viaggio di avvicinamento alla Sindone che ci hanno anche raccontato come la città di Torino e come la nostra provincia stia accogliendo, come si suol dire, molto bene i pellegrini che speriamo poi tornino anche dopo. Anche perché si parla già della nuova ostensione con questa nostra fretta italiana di organizzare già un altro evento. Godiamoci questo per adesso, fino al 23 maggio. Grazie per averci seguito, ci rivediamo fra due settimane. Grazie a tutti.